Eeeh, quindi... Salvini, buonasera. Eeeh, quindi... Salvini, cosa sta facendo? Posso aiutare la signora Balenghi a buttare giù la tramezza per ampliare la cameretta del figlio che oggi è accatastata a legnaia? E beh, no, se è accatastata a legnaia... Le sto aprendo una finestra in quello che oggi è considerato il tetto. Ma non si può credere. Poi le faccio anche una cucina in quello che oggi è accatastato a balcone. La cucina sul balcone. Cosa c'è di più bello che spostare la cucina nel balcone? Adesso lei ha preparato il condono, ma... Le soppalco il bagno e un bel forno da pizza nel ballatoio vicino all'ascensore. Eeeh, quindi... Eeeh, quindi... Ma non deve farlo lei, però... Bilocale nel garage. Ma no, ma come bilocale? Cavando nella roccia. Ma si potrà... Cosa c'è di più bello che trasformare la cantina in una spa... No, ma se è una cantina... Con tanto di idromassaggio, bagno turco e la tailandesina che ti massaggia. Ma non credo si possa... Salvini fa i condoni? Eh sì, sì. No. Come no? No. No. Piccole difformità interne. Quello che ha appena detto, però... Devo fare la pratica in comune aspettando mesi, anni... Sì. No. No, non più. E come funziona? Da oggi basterà urlare in strada, sotto l'ufficio del sindaco, Ehi, comune! Ehi, comune! Hai capito? No. Ho ricavato un maneggio dal secondo bagno! Ma no, ci fanno un po' ovole. 500 euro! Grazie, comune! No, no. Ma che modo è? Eeeh, quindi... No, no, piante. Eeeh, quindi... Non può essere così. Io, maledette tramezze. E ora, grazie a me, la signora Balenghi... Che non sappiamo chi sia. Da bilocale, di 60 metri quadrati, si trova un agriturismo con cavalli, fa 60 camere, bagni, barbecue, forno per pizza, e quindi lasciatemi buttare giù questa cazza di tramezze. No, ma scusi, ma come buttare giù Salmini? E quindi? E quindi? Magari però non si può, cioè... Ma come non si può? Eh beh, ma non è che si possano buttare giù... Lo sa con chi ne ho parlato io? Non lo so, però... Con architetti, notai, ingegneri, geometri, tecnici, agenti immobiliari, muratori, imprenditori, cooperative, e tutti mi hanno detto, vai, butta giù questa tramezza, che tanto il palazzo non casca. Ma guardi, che ha volto i muri... Secondo lei, se butto giù questa tramezza, il palazzo casca, e quindi mi lasci tirare l'ultima ammazzata. Non lo faccio. Ho paura come tutti, signor no, che se tiro giù l'inutile tramezza, spessa un metro, il palazzo della signora Balenghi-Grolli. Se è largo un metro, no? No, 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 quindi... No! Salvini! Salvini, cosa è successo? Niente, dov'è finito? È saltata l'ipotesi agriturismo. No, certo! È saltata... Loculo! Ah, ecco! Perfetto Loculo! Va bene, va bene. Comune! Eh! Ho fatto un Loculo! Non funziona. E quindi...